Luca Sanfilippi è una figura importante, giovane, ma già con una grande esperienza, una grande capacità amministrativa e politica. Luca ha l'obiettivo di dare finalmente quelle risposte che la terza città delle Marche aspetta da tanto tempo e soprattutto di consentire di aggregare Fano alla grande sfida di rilancio della nostra regione. Una sfida che sta superando e conferendo quelle risposte e superando tutte quelle difficoltà che avevamo trovato e gradualmente settore per settore stiamo cercando di costruire non solo le risposte ma anche le prospettive al turismo, alle infrastrutture, ai servizi, partendo proprio dalla sanità e a tutte quelle altre grandi sfide necessarie per fare di questo territorio un territorio competitivo. Oggi incontro importante per sostenere Luca Sanfilippi, candidato sindaco di centrodestra. Quali sono gli obiettivi futuri? Fratelli d'Italia è sempre trainante anche a Fano, anche a Fano in questa competizione elettorale che vede Luca Sanfilippi come candidato sindaco con una prospettiva di governo di questa città per guardare al futuro, per guardare allo sviluppo. È chiaro che in tutto questo la presenza del governo, io mi rappresento in questo momento il governo e la presenza del governatore della regione Marche sta a indicare una filiera istituzionale che funziona a sostegno di questa città.